Popolo di Apple, i miei iscritti tutti e il popolo tutto di YouTube, bentornati su MasterJTrix. Allora, si è conclusa da poco, poche ore, la conferenza di Sony e di Microsoft riguardanti l'errore nuove console. Un mese fa, neanche un mese fa, poche settimane fa c'è stata la prima presentazione e il reveal della nuova console di Microsoft, Xbox One. Io ancora non ho dato un mio personale parere riguardo queste due convention e queste prime caratteristiche delle nuove console, salvo qualche mese addietro in cui feci il video sulla PlayStation 4 quando appunto rivelarono che era in produzione e rivelarono le prime caratteristiche. Finalmente le due console sono state presentate, tutte e due le case hanno presentato le loro console, Microsoft nella prima sua conferenza stampa ha fatto una presentazione un po' scarna la verità, ma questo tutti ne converrete, in quanto non si è visto praticamente niente sui giochi e si è vista praticamente la forma della console che inizialmente Sony non aveva presentato e molte funzioni riguardo questa nuova console. Prima di tutto come forma, andando a parlare dell'Xbox One abbiamo visto che è molto squadrata, molto massiccia insomma, hanno scelto una linea molto pulita e un po' più sobria, ma che ricorda un po' insomma vagamente un video registratore degli anni 90 insomma. Quindi è bella grossa, bella massiccia. Il Kinect anche è stato migliorato e la console ora si accende come tutti sappiamo, si accende vocalmente e il Kinect nella console sarà obbligatorio per praticamente far funzionare la console. Perché la console si accende vocalmente e molti comandi della console funzionano... mi scuso ancora una volta, molti comandi della console funzionano ancora vocalmente. È stato fatto vedere molto riguardo i servizi sull'Xbox One, servizi che però, a parere mio, sono attuabili solamente nel mercato americano, in quanto da quelle parti hanno una banda larga, comunque una banda internet molto migliore della nostra, di gran lunga. Cosa che qui ancora noi non abbiamo o addirittura non tutti hanno una linea abbastanza veloce per poter usufruire di questi servizi. Pensate voi che tante volte andiamo a vedere un evento di streaming. Il live si incanta stesso, non lo riusciamo a ricevere. E quindi ha mostrato in questa prima conferenza tutti i vari servizi. A parere mio servizi che comunque sono attuabili, per lo meno, per quello che ho visto solo sul mercato americano, un sacco di sottoscrizioni, hanno fatto una partnership con l'NFL, quindi avranno la possibilità di vedere il football, non ho capito bene in quale maniera, cosa che comunque a me non interessa. E quindi si sono soffermati molto poco sui giochi, si è visto molto poco. Prima conferenza, insomma, un po' deludente, anche perché poi hanno annunciato comunque già delle cose che non fanno molto sorridere il popolo dei giocatori. Si sono tenuti sulla linea, cioè comunque sono, diciamo, neanche tanto sulla linea della PS4, in quanto la Xbox One monterà un hard disk da 500 GB che non sarà però sostituibile. La Microsoft ha però detto che si potrà usufruire volendo di un hard disk disk supplementare utilizzando le porte USB 3 presenti nella console. Quindi, per avere più memoria, si potrà espandere la memoria del disco fisso collegando un hard disk, insomma, collegando un hard disk esterno. Avrà una porta HDMI, chiaramente, più porte USB e porte di alimentazione Kineft vari, uscita ottica e quant'altro. avrà il Wi-Fi, chiaramente. E, chiaramente, ci sono state altre notizie, anche che, ripeto, come ho detto prima, l'ho fatto solito come nei giocatori, tipo il blocco dell'usato, insomma, o perlomeno, a quanto pare, Microsoft ha detto che, così, questo è quello che ho detto, lascerà ai publisher, sebbene ho capito, e non me le vogliate, non mi attaccate, sebbene ho capito, la Microsoft lascerà ai publisher la possibilità di bloccare certi giochi, o meno, sulla console. Inoltre, la console richiederà una connessione ad internet almeno una volta ogni 24 ore. Ora, io penso, no? Ok, una volta ogni 24 ore si parlava dell'Always Online, perlomeno questo non c'è, perché, bene o male, non dovrà essere 24 ore su 24 collegata, però una volta ogni 24 ore. E che ancora non ha una connessione a banda larga, perché vorremmo ci infaccia, no? Vorremmo farci la realtà. Nel 2013 ancora non tutti hanno una connessione a DSL. C'è chi ce l'ha lenta, c'è chi proprio ancora non ce l'ha. Quindi, se voi volete giocare, dovete per forza collegarla una volta ogni 24 ore, per far sapere alla Microsoft che la vostra console c'è, no? e per dare modo di controllare anche i titoli di chiavette, perché la console utilizzerà anche dei nuovi dischi Blu-ray. Anche loro sono passati al formato Blu-ray. E questi dischi, praticamente, vi serviranno solo, i nuovi dischi Blu-ray, vi serviranno praticamente solo nel momento in cui li comprate. Perché? Perché i giochi dovranno essere necessariamente installati all'interno della console, all'interno di Xbox One. Una volta installati, potrete giocare al vostro gioco, che verrà salvato sia nella console che nel cloud. E potrete giocare al vostro gioco, semplicemente, senza bisogno di utilizzare il Blu-ray Visc. Quindi, il problema si pone. Se io voglio prestare un gioco a un amico, come posso fare? Non si può sulla carta, perché se c'è il blocco dell'usato, il mio amico non lo può usufruire. Perché quando voi comprate un gioco, questo gioco ha una licenza. Una licenza che voi acquistate nel momento in cui vi comprate il gioco e che quindi diventa vostra. Con la connessione della console, praticamente, la Microsoft controlla che voi siate ancora in possesso di questo gioco, che la licenza sia comunque la vostra. Volete giocare a casa di un amico? Dicono che in qualche maniera si potrà fare. Però come dovreste accedere, praticamente, da un'altra Xbox, con il vostro account live. E di conseguenza, con il vostro gioco che è salvato nel cloud, potrete giocare, in quel caso, sulla costa di un altro amico. Vado utilizzando il vostro account, quindi, nessuna libertà. Quindi capite che questi DRM che ha imposto la Microsoft, non vanno bene, insomma. Non vanno bene. E penso che tu ti raccomando su questa cosa. Voi mi direte, sì, ma Steam funziona già in questa maniera. Ok. Ma stiamo parlando di PC, ragazzi. Su console è un'altra cosa. Una persona deve essere libera, un giocatore deve essere libero di poter giocare come vuole, dove vuole e quando vuole, insomma. Non ho bisogno che nessuno gli faccia tanti controlli, un po' di quello e quanto altro. Ok. Quindi questo è un po' quanto. Nella seconda parte della conferenza dell'E3, nella seconda parte, praticamente, all'E3, l'ultima conferenza che ha avuto un paio di giorni fa, la Microsoft ha ascoltato, diciamo, le molte critiche dei videogiocatori riguardo la sua console e questi primi dettagli un po' sconcertanti e ha fatto una presentazione dove ha mostrato solo ed esclusivamente i giochi. Diciamo che la macchina, paragonato a quello che è stato presentato nel primo reveal di PS4, diciamo che la macchina, tutto sommato, si difende bene. Chiaramente ha una grafica molto migliorata rispetto al poster, da sempre si difende bene. Molti shooter ho visto come di console della Microsoft, insomma. Ma vedremo un po' cosa riuscirà a presentare. Chiaramente ha annunciato che ci saranno dei nuovi giochi, mi pare che siano 15 nuovi giochi, di cui 8 saranno esclusive, a quanto ho capito, nuove esclusive. E vedremo un po' come poi arriverà, quando arriverà questa console, come sarà con la PS4, insomma. Parlando dell'hardware, loro non hanno detto tutto l'hardware completo, però poi sono state approfondite delle notizie del web che potete trovare. L'hardware della Xbox One, scusate un po' di raffreddore, l'hardware dell'Xbox One, praticamente comprende il medesimo CPU della PS4, quindi un AMD Jaguar basato su architettura x86 a 64 bit, ha 8 core, quindi lo stesso processore della PS4, 8 core. Conterà anch'essa su 8 GB di RAM, però 8 GB di RAM DDR3, anziché DDR5 come PS4. Cosa vuol dire? Vuol dire che a livello di memoria avrà una potenza nettamente inferiore, perché la differenza di banda è diversa. Per rendervi conto, le GDDR3 sfruttate da Xbox 360, da Xbox One, scusatevi se non ricordo male, hanno una banda di 76 Mbps su Xbox One, mentre su PlayStation 4 la potenza con le GDDR5 è di 176 invece, quindi il valore è già abbastanza letto, utilizza memoria GDDR5 nel PlayStation 4, che utilizza anche sulle schede grafiche di cui ci rifaccia più alte. La velocità computazionale è di 1,26 teraflops per Xbox One, mentre fino a 1,84 teraflops per PlayStation 4, anche questo numero c'è già una bella differenza. La differenza è che della PlayStation 4 ci sarà, anziché un unico processore, ci sarà una APU che praticamente integra processore grafico e microprocessore praticamente in unica unità e utilizzerà una memoria unificata di sistema ad 8 GB, come ho detto GDDR5, di cui 1 GB verrà dedicato al sistema operativo, quindi gli sviluppatori avranno ampio margine per sfruttare tutto il potenziale del PlayStation 4 e quindi avranno a disposizione altri 7 GB libri per poter far girare la grande i giochi intorno. A quanto riguarda Xbox One invece, di questi 8 GB, 3 GB se ne vanno, quindi ne restano 5, 3 GB saranno sfruttati per il sistema operativo perché addirittura la Xbox One pare abbia 3 sistemi operativi, quindi avrà i kernel di 3 sistemi operativi per effettuare diverse operazioni, quindi hanno già detto che 3 GB di RAM saranno sfruttati solo per il sistema operativo, di conseguenza restano 5 GB di RAM per portare i nostri luci fuori giù, insomma, e questo non è un dato da fuoco, se vogliamo metterla. Abbiamo visto che Xbox alla fine ha portato i giochi, vediamo un po' come andrà quando usciranno. La console Xbox One sarà in mesa sul mercato a novembre per il prezzo annunciato di 499 euro. Arrotondiamo a 500 euro, che insomma, non è tantissimo, ma non è neanche pochissimo, insomma, io la verità non ho mai posseduto un Xbox perché non i giochi che i giochi presenti su Xbox salvo molto in piatta non erano del mio genere, non mi hanno attirato, ho giocato spesso con l'Xbox però non ho mai comprato una perché la verità sapete poi tutti quanti che si sceglie una console principalmente per i giochi o meglio per le esclusive, le esclusive di Xbox per quelli che sono di mio genere che non mi hanno mai attirato oltutto che possa essere una grandissima console. Parlando di PlayStation 4 è terminata anche lo stesso giorno delle tre in cui è stata fatta la conferenza ma è terminata però le due mesi del mattino cioè iniziata le due mesi del mattino la conferenza dove ho dovuto andare in diretta perché non ho andato a lavorare ho visto il live registrato e finalmente la Sony ha presentato la nuova forma di PlayStation 4. Mi aspettavo sinceramente anche su PS4 qualcosa di meglio però diciamo che come forma come forma rispetto a Xbox One è meno squadrata meno squadrata e ha praticamente un led centrale sulla parte superiore della console che lampeggia a segnalare che la console è accesa si vede si vede bene anche nel video della presentazione che quando i drogas ti animano la console è abbastanza massiccia quindi non escludo che in futuro dopo la messa in commerciale della console in un successivo futuro cerchino ancora di ridurre le dimensioni come è stato fatto per tutte le altre PlayStation abbiamo visto finalmente un po' più di gameplay dei videogiochi che già ci hanno mostrato all'inizio la nuova console di Sony quindi PS4 sappiamo già le caratteristiche che hanno lo sappiamo già e come praticamente input posteriori potrà contare su l'ingresso di alimentazione che è stato ridotto rispetto al primo modello di PlayStation 3 che era quello fatto e quello che possiedo che era un cavolo per gli alimentatori di PC invece è stato utilizzato con un semplice cavolo normale adesso per l'alimentazione una presa HDMI e qua sorge il mio primo problema perché nella nuova console è presente esclusivamente l'ingresso HDMI da una parte c'era da aspettarselo perché abbiamo avuto sette anni di tempo per farci un televisore a candy e quindi anche se non so se tutti ce l'avano gli alimentrici un tipo a candy quindi magari chi ha un più ultimo non potrà godere di queste nuove console il problema principale è qual è che su PlayStation 3 la porta HDMI è criptata quindi per i giocatori come esempio me logicamente Gym AeroDB e tanti altri otakuveli insomma tanti altri che fanno gameplay su YouTube non so se riusciranno non so se riusciremo ancora a fare dei gameplay su questa nuova console perché se la nuova porta se questa porta HDMI su questa nuova console è criptata come credo che sia come per la PlayStation 3 i PVR non riusciranno a far passare il segnale perché apro qui una piccola parentesi chi utilizza dei PVR come ad esempio un legato di un 4HD uno patch PVR2 insomma un Everniglia comunque poteva poteva contare su l'uscita standard quindi analogica per poter far passare il segnale nel PVR e comunque poter registrare il gameplay mentre su Xbox si poteva registrare direttamente tutto dall'HDMI essendo la porta HDMI della PlayStation 3 criptata il PVR non la leggo di conseguenza non si doveva trovare una scappatoia praticamente presente comunque il PVR usare un cavo diverso per poter registrare il gameplay ora se questa porta è criptata anche nella PlayStation 4 io non so veramente come faremo a registrare i nuovi gameplay anche perché io credo che sia così perché dal momento che la Sony ha deciso di mettere questo cacchio di tasso share per fare dei gameplay e pubblicarli sugli stream io penso proprio che abbia criptato la porta perché perché con i gameplay che si fanno su PlayStation 4 si potrà registrare per un tempo limitato e solo in determinati punti del gioco quindi non ci permetterà di registrare tutto il gioco intero per evitare spoiler insomma ok quindi questa è una cosa che mi lascia un po' perpresso tornando al discorso tornando al discorso della delle porte della console abbiamo detto una porta HDMI una porta per uscita ottica porta Ethernet Bluetooth 2.0 avrà sicuramente anche il Wi-Fi e questo è è un po' quanti insomma è un hard disk attenzione adesso iniziamo con le chicche perché qua vediamo le differenze e capiamo che che Sony si è data già un'ammazzata un'ammazzata nelle parti basse per un certo senso no? perché la Playstation 4 avrà sì anch'essa una disk da 500 giga ma sarà sostituibile come quello attuale sulla Playstation 3 quindi volendo potremo ampliare il nostro il nostro disk più avanti il nostro disk più avanti altra cosa che è stata annunciata e qua tenetevi forte per chi non l'ha già sentito lo ripeto io adesso totale assenza di DRM totale assenza di DRM e qui già ragazzi è come picchiare uno che caga diciamo no? perché la Sony la Microsoft ha tirato via ha tirato fuori un sacco di restrizioni mentre poi arriva la Playstation 4 tutta una bella spavanda e dice non ci sono DRM cosa vuol dire che hanno confermato che la console non dovrà non avrà bisogno di stare sempre connessa né tantomeno avrà bisogno di essere collegato una volta al giorno quindi se non avete una linea internet veloce a casa ve ne potete sbattere le balle perché potete giocare tranquillamente online senza bisogno di cioè tranquillamente offline senza bisogno di collegamenti necessari internet per la console ok? e questo è il primo punto nessun blocco dell'usato e qui è stato fatto anche un video uno sberlefo diciamo per far vedere come si condividono i giochi con gli amici su di PS4 ripeto nessun blocco dell'usato e questa è la notizia che volevamo sentire quindi noi possiamo comprarci il nostro bel gioco di PS4 giocarcelo tenercelo prestarlo o venderlo farne il cazzo che vogliamo senza tasse e quant'altro cazzo e mazze connessioni grande cosa quindi niente di RM nessun blocco dell'usato e la PS4 sarà region free quindi cosa vuol dire region free per chi non lo sapesse che noi possiamo giocare con giochi provenienti da qualsiasi parte quindi giochi europei americani giapponesi austro-ungarici e tutto quello che volete turchi africani tutto quello che mi piace quindi giochi nessun limite per i giochi insomma qualsiasi gioco girerà di qualsiasi parte del mondo girerà sulle nostre console grande notiziona ed infine hanno detto chiaramente per la retrocompatibilità PlayStation 3 hanno detto che si verrà utilizzato il servizio Gaikai che sarà disponibile praticamente dai primi mesi del 2014 infine a fine serata quello che finalmente aspettavo e che volevo sapere perché 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 praticamente io qua i soldini ce li ho già pronti li devo solo spendere perché nel periodo d'altalizio si presume a novembre con l'uscita della nuova Xbox 360 verrà lanciata a livello mondiale anche la PlayStation 4 al prezzo attenzione al prezzo di 399 euro 400 euro 399 euro ben 100 euro in meno rispetto a Xbox One che non è poco e soprattutto come avevano detto la console costa meno costerà meno il lancio rispetto a PlayStation 3 che costava ben 200 euro di più quando questa è uscita nel 2006 ok quindi la prezzo tra una uscita costava 600 euro un cifrone 400 euro non sono pochi però caspita già 200 euro di differenza mi sembrano parecchi mi sembrano parecchi e sicuramente la costa sarà mia a day one e faremo la di riponere qualche gioco che dire notiziona quindi quindi sulla carta al momento la Sony oggettivamente è in vantaggio sulla Minecraft insomma niente restrizioni sui giochi e quant'altro un prezzo più competitivo insomma per una console di nuova generazione che mostra potenzialità da urlo e insomma veramente che dire io sono contentissimo di questa notizia ragazzi comprarla al lancio a 399 euro è veramente una notiziona quindi che dire ragazzi io veramente sono contento queste sono state un po' le mie impressioni spero poi adesso di sapere effettivamente se uscirà a novembre dicembre dunque io penso che se Microsoft lancerà la console a novembre non ho detto più di un'altra dito penso sia a novembre entrambe le console usciranno a novembre giù di inizio ma quindi veramente a questo punto non vedo l'ora che queste nuove console escano bene che dire questo è un po' è stata un po' la mia impressione su quello che è stato visto su queste due console io penso che sicuramente andrò su playstation 4 la verità anche perché sono sempre stato dalla parte di Sony perché i giochi che mi ha dato non parlo della fanboy perché non sono fanboy io gioco a tutto gioco a console gioco a pc dove c'è da giocare dove c'è un videogioco io sono là pronto a giocare ma la verità a livello a livello di videogiochi la Sony mi ha sempre dato tanto ho scelto ho scelto playstation 3 che è partita molto svantaggiata quando ci fu il lancio ma i giochi che mi ha dato questa console le emozioni che ho dato questa console come le altre console della Sony hanno sempre ben ripagato i missuli di spese insomma quindi credo credo proprio che comunque andrò su playstation 4 poi magari avendo la possibilità vedremo un po' come sarà questa Xbox One magari potremmo prendere Xbox One vediamo come seconda console magari ma sicuramente la mia prima scelta ricadrà su playstation 4 questo poco ma sicuro di questi 399 euro tra l'altro si sono alzati un po' di polmica perché già in rete qualcuno inizia a dire eh ma magari eh ma non metteranno i PSI chi se ne frega non ho bisogno di avere una una periferica che tanto non uso guardate un po' voi ho comprato da poco un po' di tempo fa non tanto poco tempo fa ho comprato il playstation il playstation 4a il playstation 3i il PS3i insomma il mago il pro-in-u l'ho usato pochissimo insomma anche perché non gioco con i giochi che io nel cielo ogni tanto ci gioco però l'ho trovata poco e l'ho comprato ma di avere in bando il PSI il PS4i come metteranno in bando il Kinect con con la Xbox One non è una periferica essenziale al fruttamento della PS4 a differenza di Xbox One quindi se non me la mettono ma chi se ne frega se poi me la mettono tanto meglio un oggetto in modo da comprare un accessor in modo da comprare più avanti beh venga se me la mettono dentro per 400 euro ci sta tutto comunque è un prezzo costituttivo altrimenti insomma è lo stesso sicuramente andrò su quella console bene queste insomma sono state un po' le mie impressioni su queste due nuove console insomma le mie impressioni iniziali decisamente soddisfatto dalle scelte fatte da da Sony non so se ritenerevi soddisfatto di quelle fatte da Microsoft la verità però avendo sempre il prossimo un concorso al Sony e non essendo stato deluso anche questa volta mi ritengo veramente soddisfatto da Sony che dire vediamo un pochino a questo punto vediamo come vediamo le novità che arriveranno man mano nel corso dell'estate fino al lancio di queste due console sperando sempre di avere qualche novità ulteriormente migliore io sono MasterJ voi avete visto MasterJ Tricks e ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi e ci vediamo Grazie a tutti.